A Montenero di Bisaccia il comune più popoloso in questa tornata elettorale in Molise le amministrative sono entrate nel vivo, infatti oggi a mezzogiorno scadeva il termine ultimo per consegnare le liste dei candidati in corsa per le prossime comunali. Sono ben quattro i competitors ai blocchi di partenza per una campagna elettorale che si preannuncia scoppiettante. Tra gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino innanzitutto il sindaco uscente Nicola Travaglini che ripropone un progetto di continuità già avviato cinque anni fa con la lista civica Uniti per Montenero di cui faranno parte anche tre di Pietristi Simona Contucci, Antonio Daolerio e Massimo Di Stefano. Il PD dopo le primarie ha il suo candidato, si tratta di Nicola Palombo, giovane e brillante, il segretario del partito democratico cittadino punta in grande per le elezioni grazie alla mediazione della Fanelli Correnzi, potrà usare anche il simbolo del PD. Il terzo incomodo è Nicola D'Ascanio già ex sindaco di Montenero nonché ex presidente della provincia. Il candidato di Montenero vince indicato da tutti come colui che accenderà tra polemiche e dichiarazioni al vetriolo la campagna elettorale a Montenero. Proprio D'Ascanio tra l'altro sarà il primo in ordine temporale a presentare ufficialmente a stampa e cittadini la sua lista civica. Ma l'ultima novità arriva dal fronte del Movimento 5 Stelle ed è arrivata la scorsa settimana. Infatti i pentastellati hanno ricevuto l'ok dal blog di Grillo per utilizzare il simbolo alle prossime amministrative e sono pronti per la prima volta a candidarsi nel comune basso molisano. A guidare la lista sarà Renzo Magagnato impegnato da tempo nelle campagne e nelle iniziative del Movimento che riguardano varie tematiche legate al territorio. Insomma a Montenero da oggi sarà un mese di fuoco con i cittadini che saranno chiamati al voto il prossimo 31 maggio.